Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokemon Fire Ash, io sono Glaciar Sphere e oggi vi mostro che sono tornato indietro a prendere il buon Noctowl, che tra l'altro è Shiny, sì ma non saltate dalla sedia, è programmato che debba essere Shiny il Noctowl che Ash ottiene. Andiamo a dare un'occhiata le sue statistiche, ok gli aumenta la difesa gli diminuisce la difesa speciale. Non è malaccio, ce lo teniamo così. Questa è Beccata, Epnosi, Whirlwind e Turbine se non sbaglio. E Foresight? Identifica? Sì, identifica. Ok, sono delle mosse un po' del cavolo, vediamo se riusciamo a insegnargli qualcosa di un po' decente. Diamo un'occhiata alle nostre MT. Allora, Ice Beam non penso possa impararlo. Vediamo un po' ritorno, sicuramente sì. È una mossa che abbiamo insegnato anche al buon Pidgeot, al posto di Foresight, via. Poi, Psichico non penso possa impararlo. Ah, può imparare Psichico, ok, cambia tutto, vai. Al posto di Whirlwind, vai, Psichico. Molto interessante è un'occhiata con Psichico. Magnet Bomb non penso proprio, sinceramente, nessuno può impararla. Infatti, Flamethrower anche no. Aira Lace, assolutamente sì. Però no, a lui insegneremo volo come mossa volante. Poi vediamo un po', non penso ci siano altre mosse che possiamo dargli. Vediamo di volo. Eccoci qui. Così sostituisce il nostro Pidgeot in tutto e per tutto. Ed ora abbiamo una squadra completamente formata da Pokémon di Yoto, tranne il nostro Pikachu che ovviamente verrà sempre con noi. Mettendo avanti il nostro Noctowl e andiamo di nuovo avanti. Torniamo in questo quindi bosco, in questa Ilex Forest. Vediamo se incontriamo qualche Pokémon nuovo a questo punto. Ma tiriamo dritti verso la fine. Bidrill dovrebbe darci un bel po' di esperienza con volo. Vai. Furi di attacco noi lo evitiamo e volo dovrebbe shottarlo. Esatto. Ok. Proseguiamo. Qui ci abbiamo ancora Misty incazzata per Totodile. Vediamo un po'. Qua non ci eravamo... Sì, ci eravamo andati qui. Certo, certo. Certamente. Vai. Continuiamo attraverso la Ilex Forest e arriviamo subito dall'altra parte. No, non voglio combattere contro questo Utut. Di qua abbiamo preso un Noctowl... Ok, siamo già arrivati praticamente alla fine della foresta. Un altro Utut. Vi ricordo nel frattempo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale, come state facendo sempre e di... Per questo vi ringrazio davvero tanto, perché state seguendo questa serie con un trasporto eccezionale. Allora, diamo un'occhiata un po' in giro qui. Vediamo, eh. Forse qui c'è uno strumento invisibile. Vediamo. No. C'è un Pokémon selvatico. Un Sensoryu. Un Pokémon che richiede uno sciolo di lingua per essere detto. Ok, però qui non c'è nulla. Proseguiamo. Magari qui però sì. Nemmeno. Tu sei un'allenatrice? No. C'è un Pokémon selvatico. Un Paras. Come osi interrompere la mia ricerca? Paras. Vai. Ho trovato questa prima, ma non mi serve. Una pietra d'acqua? Beh, non è male. Una pietra idrica, pietra d'acqua. E qui troviamo una caramella rara. Ok, figo. Figo figata, giusto per citare qualcuno. Sensoryu di nuovo. Va bene. Ma non mi interessi, Sensoryu. Vuoi capirlo, per favore? Grazie. Niente, l'affare. Continuano ad ammorbarmi le balle questi Pokémon selvatici. Ecco, te ti ammazzo perché mi dà anche un po' di esperienza, eh. Te ti ammazzo con volo. Ha provato addirittura a mettermi parassisteme sto Execute. Guardalo, che infame. Facciamo ritorno, dovrebbe ucciderlo. Non l'uccite, davvero? Ha provato pure ad addormentarmi. Vabbè, ritorno ci sta che non faccia tanto danno ora perché deve crescere l'affiatamento tra me e Noctowl. Sfigiamo questo nerd. That Pokémon you have? Quel Pokémon che è lìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Buono Ma rip tipo elettro Continuiamo con lui Potrebbe farci molto male ma noi siamo psichico Che dovrebbe fare molto male anche a lei Charge Bene Vai un altro psichico e non abbiamo subito alcun danno Contro questo poche maniaco Mentre il nostro knocktowl sarà livello 19 Bene così Allora qui forse potrebbe esserci uno strumento Nemmeno Nada Sfidiamole allora I'm going to be the best psychic ever Davvero Vuoi davvero diventare Una Psichica migliore La sensitiva magari migliore Contro Giraffari che proviamo a usare volo Ah mi ha confuso Cioè ha avuto il culo di beccare la confusione Con Con confusione Appunto E io ho dovuto fare una mossa che Comprendeva due stadie Mannaggia lei Mandiamo No Heracross ce lo distrugge Mandiamo Cyndaquil Thwomp È alla faccia eh Facciamo flamethrower Dovevo farle male Appunto Vai Altro flamethrower E adesso abbiamo effettivamente una squadra di Mezze seghe A parte Pikachu Quindi dobbiamo un po' Reabituarci ad essere Un po' più scarsi del solito Pikachu però non lo voglio utilizzare in questi In questi primi percorsi Salve ragazzi Erano nel mezzo di qualcosa loro Chissà di cosa eh Camper Toad Contro Psyduck Psyduck dovrà avere una difesa speciale abbastanza alta Proviamo Psichico Vediamo quanto li fa Infatti non li fa molto Ecco magari confondimi di nuovo anche con Hidropulsar mi raccomando Ok Nocturl deve prendere un bel po' di punti esperienza Deve salire velocemente il livello Whoop whoop Questa sta abbaiando Esattamente cosa stavo facendo Ah no che stava imitando il best di Whooper Va bene Va bene Psichico dovrebbe fargli molto male Whooper non ha difese particolarmente alte infatti E manderà il capo altro Whooper Quindi io direi di mandare invece Toterai Per fargli prendere un po' di esperienza Vai Con un bel Bite Teckle va bene Forse l'eroassalto gli fa più danno No gli fa più o meno lo stesso danno Però usiamo l'eroassalto che non può fallire Vai Un altro Whooper Useremo di nuovo Toterai Slam addirittura voleva farmi eh Voleva provare a paralizzarmi Questo Whooper Ok Morso Perfetto Stop it Smettila Non lo smetterò mai Strumentino Nada Proseguiamo Qui c'è un centauro Questo è un allenatore La mia bici non va E quindi mi sfida Beh giustamente Mi sembra un percorso logico molto Azziccato Con nato a livello 2 Ma in che senso scusami Ma in che senso è nato a livello 2 Bullo mi ha detto Va bene Ok Salve gentiluomo I'm willing if you are Lo voglio Lo faccio Se lo vuoi Ok Con Growlit Avrei dovuto mandare Toterai qui Mi ha pure abbassato l'attacco fisico Noi usiamo un psichico Che gli dovrebbe fare abbastanza male Infatti Psichico di nuovo Flamewheel Cacchio Andiamo ancora di psichico Anzi di ritorno Sperando di essere più veloci Buono Buono così Un bel po' di punti per Noctowl E a questo punto L'idea di cambiare Pokémon davanti E mettere Era cross Bene così Qui c'è qualcosa O sì che c'è qualcosa Ed ecco un Pokémon selvatico Che è un oddish Potremmo andarci meglio forse Beh Io gli faccio una ralace E mi prendo i suoi punti esperienza I suoi succosi Punti esperienza Un altro Pokémon che si frappone fra me e lo strumento Uno Slowpoke Va bene A te Slowpoke invece ti faccio un Heartquake Forse non ti uccido nemmeno appunto Quanto sei resistente e inutilmente Slowpoke Stupido maiale Muore Via Ok Una pepita Un po' di soldi per noi Tra l'altro in questo percorso Cioè non sembrano esserci Pokémon nuovi eh Non sembrano davvero esserci Pokémon nuovi Diamo un'occhiata veloce così Finale Oh E invece sì Un bel Girafarig Che si becca Un'incornata Ok Dovremmo riuscire a fargliene un'altra Senza ucciderlo Perfetto Preciso E andiamo quindi con una Megaball diretta Vai Abbiamo trovato un po' di Megaball Negli ultimi episodi Direi di usarle Nessuno riusciamo a prendere Girafarig E assicurarci No Un'altra entrata nel Pokédex Vai Megaball Entra Oh cattura critica Bene così Bene così Cosa sta succedendo? Bug Eh si è buggato Palese Vediamo cosa succede Stiamo andando avanti nella battaglia Ah Girafarig continua a combattere Eh facciamo fuga Ma Noi l'abbiamo catturato o no? Scusami eh Controllo veloce Pokédex National Pokédex Eh Dov'è il nostro Girafarig Girafarig Dove sei? Non vuole uscire Ma perché è tutto sminchiato Questo Pokédex Tra l'altro Non sembra voler uscire Girafarig Mi sa che non l'abbiamo catturato Alla fine eh No Alla fine Non l'abbiamo preso Boh Spero non sia un bug Di tutti i Girafarig Eccolo qua Non l'abbiamo preso Che è molto strano Questa cosa È molto strano Però siamo arrivati A Golden Road City Con quel bambino Che va avanti Indietro Voglio immediatamente Sapere cos'ha I'm just a few dollars short Ok Mi sa perché di ca Mi mancano solo Mi mancano solo un po' di dollari Curiamo i nostri Pokémon Quella tipa ha un Drowsy Per fare teletrasporti Ok Il negozio di flori Il fioraio È molto carino Ma non vendono molte cose Il Medrosy può teletrasportarti Ma io non voglio andare A nessuna parte Voglio vedere se è il mio Girafarig No Non è stato preso Non è stato preso il mio Girafarig Vergogna Vergogna a tutti quanti Davvero Io prima di andare A questo punto Visitare Golden Road City Voglio provare A catturare di nuovo Un Girafarig Per vedere se il bug È presente ancora Un Voltorb Non ce l'abbiamo Noi un Voltorb Ok Aera Race Non dovrebbe ucciderlo Perché è poco efficace Glielo faremo un'altra volta Sperando che lui Non abbia Autodistruzione Attenzione Perché potrebbe avere Autodistruzione Ok Inchiuso Spart Mi va bene Infame che mi ha paralizzato Non mi va più bene Però prendiamoci A questo Voltorb Che è una linea evolutiva Che ci manca completamente Di canto Buono Preso Ok Il bug Per adesso Non si è ripresentato No Non voglio dare Un soprannome a Voltorb Voglio vedere però Se si ripresenta Con Girafarig Eccolo qui Ottimo Trovate subito Un'altra Girafarig Questa volta femmina Andiamo di Horn Attack Ok Gli abbiamo già fatto Troppo danno A questo punto Andiamo di Megaball Voglio proprio vedere Se si ripresenta il bug Con le stesse condizioni Avvero con la Megaball Altra cattura critica Attenzione Potrebbe ripresentarsi Nuovo il bug Perché anche prima Ha fatto cattura critica Ok no Sembra che questa volta Il bug Non si sia presentato No Non voglio dare un soprannome Buono Ok Ci siamo presi la rivincita Facendo così Abbiamo anche catturato Un Voltorb Quindi un Pokémon Un altro Pokémon nuovo Niente male Curiamo i nostri Pokémon Mettiamo a posto I due Voltorb E Girafarig Nel box Eccoli qui Tu sei il numero 203 Vai Andiamo a metterlo Nel box 203 Vicino qui Sei qui Ok E il nostro Voltorb Eccolo Sei invece Il numero 100 Tondo Tondo Vi andrò a mettere Quindi qui Dovrebbe essere Questo Dovrebbe essere Quello 100 Sì 99 Ok Qui quindi Sarà un Electrode Qui ci manca Un Gengar Qui ci manca probabilmente Hitmon Lee Perché qui c'è Hitmon Chen Piano piano Prenderemo tutto Piano piano Faremo tutto Senza fretta E anche per questo episodio È tutto Nel prossimo Esploreremo Golden Road City E forse potremo Battere anche la palestra Vedremo se ci riusciremo Quindi grazie a tutti Per aver seguito questo video Io vi ricordo di mettere Un bel mi piace Se avete gradito La parte Commentate Per sapere Fatemi Per farmi sapere Mannaggio a me Che mi ingarbuglio Cosa ne pensate Di questo videogioco E iscrivetevi al canale Per non perdervi I prossimi caricamenti Da Glacial Sphere È tutto Al prossimo video Al prossimo video Grazie a tutti